Giulia, buongiorno. Anche gli under 14 siano imputabili. I casi di violenza sulle donne che in questi giorni riempiono le cronache rappresentano la punta di un iceberg. In tantissime, per i motivi più diversi, scelgono di non denunciare. Non si deve pensare che il fenomeno riguardi solo i casi seguiti dai media. Il problema è drammaticamente più ampio. La violenza sulle donne, comunque, c'è sempre stata ed è trasversale. Per combatterla bisogna comprenderla e innanzitutto distinguerla dalla violenza comune individuandone la specificità. Affonda le radici nella discriminazione. In una concezione della donna come essere inferiore, oggetto, preda, ci sono uomini per i quali il consenso della donna è una questione del tutto irrilevante, anzi inesistente. La violenza sulle donne riguarda anche i più giovani, che a volte sembrano presumere una specie di diritto all'amplesso. Credo che in questo siano influenzati dall'uso di internet e dei social network. Così l'avvocato è senatrice. Della Lega Giulia, buongiorno in un'intervista a Libero. La Lega sta lavorando a una serie di proposte sulla violenza dei minori. Tra queste, voglio ricordare quella del DASPO per i minori di 14 anni. Oggi i ragazzi crescono molto in fretta e attraverso la rete e i social acquisiscono in giovanissima età nozioni che un tempo si acquisivano dopo. Il tema è complesso e dovremmo anche pensare alla possibilità di abbassare la soglia di imputabilità, che oggi è fissata a 14 anni. Lascia la tua opinione nei commenti. Iscriviti e metti un bel mi piace al video. Per noi è importante. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie.